Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Traffico scorrevole al momento su tutta la rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna tratto chiuso ai mezzi pesanti tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sul raccordo c'è una Firenze scambio di carreggiata per la volita San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. A Firenze dalle prime ore di stamani chiusa via delle Vagnese tra Galluzzo e Scandici per la caduta di un muro e di due alberi. Nel viale Talenti angolo piazza Ciampi rallentamenti per lavori in direzione centro città. Per il trasporto pubblico locale è in corso la sperimentazione tariffaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Pontassio di Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!